Si ritrae Never Cappadete, finì dietro i cali della seconda fila. Nestella Gual, molto veloce con a largo il sette di Nicolzini. Insiste, Nicolzini va a rilevare Nestella, poi Tachifez. Dal gruppo c'è Nishni Novgorod con terza ruota Marathon Griff. Poi ho Giuseppe Sanne, il resto del gruppetto. I duecento in quattordici con Nicolzini che controlla le operazioni in avanti. Progredisce Marathon Griff, terza ruota per Giuseppe Sanne, che va a gravitare sui primi. Trenta ai quattrocento e Giuseppe prosegue, ma poi ripiega in terza pariglia. Preceduto da Nishni Novgorod, Nicolzini in controllo in avanti dopo i primi 600 di gara. Una frazione in quindici, i 600 in quarantacinque. Si va così di conserva, nessuno muove e chiude il gruppetto Never Cappadete. In seconda opzione c'è Nestella, in terza Itachi. E Nicolzini si può permettere, 800 davvero tranquilli, un diciassette che fa 1-2 e qualcosina. Viene via Nishni Novgorod che si porta dietro Giuseppe Sanne. Nishni Novgorod scavalca Marathon Griff e si porta a contatto di Nicolzini. Si va al chilometro con frazione in quindici scarsi. Nishni Novgorod che attacca Nicolzini che lo controlla. Giuseppe in seconda pariglia, Nestella di dentro, Itachi all'interno. A largo c'è anche Mistero del Nord. Frazione veloce in 14-4 con Nicolzini che controlla Nishni Novgorod. Si prepara Giuseppe Sanne. Ora viene via Giuseppe a punta di Giuseppe che aggredisce i primi due. E si porta su Nicolzini. Mette lì Nishni Novgorod, aggredisce anche Nicolzini. Passa in scioltezza Giuseppe Sanne. Si libera bene Itachi Fez insieme a Mistero del Nord. Giuseppe che è passato con chiarezza. Poi Itachi Fez. O Giuseppe Sanne. Itachi Fez. Nicolzini. 2-2. 29 e mezzo ad arrivare. O Giuseppe Sanne. Antonio Di Nardo. Da chiaro favorito il Garden Spot Esraela della MyUrs SRL. Vincenzo Tufano al training. Antonio Di Nardo alla guida. Dopo il rientro brillante di Foggia. La vittoria in 1-16-3 ufficiali. Quest'oggi dalla seconda pariglia. Prima dalla terza, poi dalla seconda. Manovra o Giuseppe ma impone chiara superiorità. Allora. Grazie a tutti.